Un Abruzzo, tanti Abruzzo, dal mare alla montagna, dai laghi alle grotte, dalle città riverasche ai borghi dell'interno. Sempre più turisti scelgono la nostra regione, ma per Confartigianato bisogna sviluppare alcuni punti e la parola d'ordine deve essere sinergia tra le parti interessate. Il talo di Giovanni, presidente Confartigianato Turismo Pescara, ribadisce il manifesto che l'associazione ha messo a punto con alcune linee guida che devono essere prese in considerazione. Confartigianato, la sezione turismo di cui io sono presidente, è nata sotto l'idea che l'intero Abruzzo, essendo una regione meravigliosa, con delle risorse infinite, deve essere portata negli anni il più avanti possibile per quanto riguarda l'accoglienza e per quanto riguarda la conoscenza del nostro territorio da parte di tutta Italia. Noi abbiamo strutturato un calendario, un manifesto, per far sì che tutto quello che sia di bello nella nostra regione, possa essere valorizzato, a partire da un turismo religioso, un turismo sportivo, un turismo enogastronomico. Quali sono i punti che voi sottolineate per avere un turismo di qualità e anche un turismo appetibile per chi voglia venire a visitare la nostra regione? Il nostro punto base nel nostro discorso è quello che ci sia una sinergia tra regione e comune, perché tutto quello che avviene per poter essere portato avanti deve essere un connubio di idee e di progetti che si uniscono fra loro. Questo che cosa vuol dire? Si parla dell'aeroporto che diventerà un aeroporto internazionale, ma l'aeroporto internazionale avrà come conseguenza un afflusso di più persone, l'afflusso di più persone dovrà avere un apporto di navette, di taxi, di smistamento anche di queste persone verso gli alberghi, verso i bed and breakfast o comunque verso qualunque località, che in questo momento rimane piuttosto difficile. Come i collegamenti tra mare e montagna, secondo Confartigianato. Chiediamo, abbiamo appunto fatto questo manifesto, per cercare di unire tutto quello che è il nostro territorio in un territorio unico e un territorio valorizzato sotto un'unica idea, cioè quella di proporre un turismo a 360 gradi.